Allora, buongiorno a tutti e benvenuti in questa prima puntata del calcio d'aria. Allora, oggi abbiamo delle domande da fare alla voce della verità, alla bocca della verità, in quanto la piccola, non sapendo cosa sta succedendo a livello calcistico, e gli faremo delle domande molto interessanti. Allora, Aria, sei pronta? Tocca a me. Tocca a te. Allora, ti chiedo, secondo te vincerà la Roma o la Juventus? La Juventus? Sì. Oh, vincerà la Juventus contro la Roma. Ma attenzione, un pronostico assurdo, ma che vogliamo prendere veramente con le pinze, detto dalla voce della verità. Ti farò un'altra domanda, Aria, un'altra domanda più importante. Ma Massimiliano Allegri, ti piace o è brutto? Piace. Ti piace Massimiliano Allegri? Attenzione, attenzione, qui siamo in disaccordo, siamo in disaccordo. E allora, chi ti piace di più tra Conte e Tiago? Tiago. Tiago, qui amore a prima vista, amore a prima vista per Tiago Motta. Ecco, secondo te, Gleison Bremer, domanda di mercato, rimane alla Juventus o va via? Via. Bremer, via! Attenzione, nella prossima sessione estiva? Tocco, sì. Perfetto, perfetto, nella prossima sessione estiva. Quindi, calcio mercato che arriverà, Bremer se ne andrà via. Adesso, aspetta, ora finiamo. Finiamo. L'ultima domanda, importantissima, Federico Chiesa. Federico Chiesa, rimane alla Juventus o va via? Via. Via anche Chiesa? Quindi una disfatta, attenzione. Quindi benvenuti in questa prima puntata del calcio d'aria, fino alla fine, forza Juve e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao, saluta a tutti! Ciao ciao!